Cari amici voglio parlare con voi del fluire di sensazioni pervasive, l'olfatto e il gusto è un'immediata immersione nel mondo senza immagini, senza forme, solo un sentire. L'atto del sentire l'odore è rilevante come l'atto del pensare. Immediatamente la mente manda in giro l'odore da un posto all'altro nel cervello interrogando un centro dopo l'altro in cerca di segni precedenti, cercando vecchie memorie, vecchi collegamenti. L'odorato è il senso fondamentale negli animali, ce l'hanno tutti, ce l'hanno gli insetti, le formiche che fiutano l'odore delle loro scie, i bruchi che sentono l'odore delle foglie, ma soprattutto è sviluppato nei mammiferi, primo fra tutti l'elefante, con duemila geni che controllano i recettori olfattivi. L'odorato è fondamentale per la loro vita. Nell'uomo l'odorato si è ridotto di importanza, ormai rizzato su due gambe per guardare il mondo ha avvicinato gli occhi e il naso si è fatto piccolo, ha acquistato molta importanza la vista. Ed ecco che il naso non è più una proboscide, è piccolo, però è sempre molto sofisticato, si unisce al gusto, al sapore, per creare e darci il sapore del mondo. Il profumo e il gusto sono un contatto interattivo primordiale, primitivo e viaggiano per spazi dilatati, velocissimi, sollevando delle emozioni immediate. È un senso molto antico, però sofisticato e sempre moderno. Ma vediamo come si forma l'odorato. Gli odori sono delle molecole piccolissime di una decina di atomi volatili che si sciolgono nei liquidi del naso e arrivano alle mucose nasali. E in fondo ai meati incontrano le ciglia, le terminazioni nervose piccolissime multiple che escono da un osso poroso, l'etmoide, alla base del cranio. E qui raccolgono gli stimoli chimici e li trasformano in messaggi elettrici. E questi messaggi salgono fino a un piccolo organo bilaterale, il bulbo olfattivo. Questo nervo cranico è molto corto, molto diretto. Ecco il magnifico bulbo olfattivo, una minuscola mongolfiera appoggiata alla base del cranio, nell'osso etmoide. È larga per ogni parte solo 5 centimetri quadrati, ma ha 20 milioni di terminazioni nervose. E capta le sostanze volatili con le sue terminazioni nervose. Lì, dentro il bulbo, cataloga gli odori. Non li sentiamo ancora, sono solo catalogati nei vari glomeruli. E di qui sale il magnifico nervo per la lettura. Ecco dunque che queste sostanze volatili, che sono diventate impulsi elettrici, salgono dal bulbo olfattivo verso la corteccia. E arrivano a una corteccia piccolina, che si chiama piriforme, vicino alla migdala. E qui avviene il miracolo. Tutte le sensazioni vengono lette come odori. E così anche dalla bocca salgono le sensazioni a un altro centro del sistema limbico, che è l'insula, dove vengono letti i sapori. I sapori e gli odori letti dalla corteccia salgono poi verso una parte che è dietro la nostra fronte, che si chiama la corteccia orbito frontale. E qui verranno amalgamati in un'esperienza unitaria. Ecco, la meravigliosa corteccia orbito frontale, che si trova in basso alla base delle nostre orbite. È una zona molto particolare, perché è anche la sede del nostro genitore interno, degli input con i quali noi dirigiamo le nostre azioni. Eppure proprio lì, dove c'è la direzione degli azioni, arriva l'odore. L'odore è qualcosa che ci deve guidare istintivamente. Già durante la vita intrauterina, al quarto o quinto mese, si forma l'olfatto. E alla nascita il neonato ce l'ha già belle maturo, così può ascoltare, sentire l'odore della mamma e facilitare l'imprinting. E così dalla nascita parte l'entusiasmante esperienza del gusto, del sapore, che sono onde di denso sentire, ci danno l'aroma della vita, ma anche la difesa dagli agenti nocivi, dai veleni. Ci danno le affinità con gli altri, le sinergie amorose, perché noi li incontriamo attraverso il loro impercettibile profumo e anche le avversioni istintive. E così tutti questi ricordi di odori e di gusti si fissano profondamente e basta una percezione affine per riportarli a galla. Infatti, quando più nulla resta della forma dei ricordi, perché anche le immagini si sono dissolte, l'ultima cosa che resta, la più costante, resta la loro traccia odorosa per farli riaffiorare. Ed ecco allora che basta un gusto, un profumo e immediatamente torniamo indietro, confusamente, magari all'infanzia, a luoghi visitati, a frammenti scomposti di esperienze antiche. E in quel momento proviamo uno strano piacere nell'inaspettata reminescenza. Pensate, una delle funzioni del gusto e dell'olfatto è proprio la creazione e la persistenza della memoria. Il 75% dei ricordi, dice uno studio della Rofellor University, sono innescati dagli odori e sono associazioni istantanee che attivano amigdala e ipocampo senza centri intermedi ma vie dirette, semplici, che vanno a ripescare il passato. E allora c'è un grande scrittore affascinato da questo collegamento tra odore, sapori e ricordi, è Proust, il quale dice sento dentro di me salire qualcosa che vorrebbe emergere a una grande profondità, non so cosa sia ma sale lentamente. Ciò che palpita nel profondo di me deve essere l'immagine, il ricordo visivo legato a un sapore che si sforza di seguirlo fino a me ma si dibatte troppo lontano, troppo confusamente. Non riesco a distinguere la forma, a chiederle di rivelarmi in qual'epoca del passato si tratti. Giungerà mai alla superficie della coscienza quel ricordo? E qualche volta arriva il ricordo e Proust ricorda il tè, il tè dalla zia, vecchi frammenti della sua infanzia. Dunque le gocce del sapore e dell'odore sono vestigia meravigliose della nostra vita dissolta, un passato che vuol resistere e tenerci compagnia, un passato che non vuol morire. E finiamo con una bella frase di Proust, quando di un antico passato non sussiste niente dopo la morte degli esseri, dopo la distruzione delle cose soli, più fragili ma più intensi, più immateriali, più persistenti, più fedeli. L'odore e il sapore restano ancora a lungo come anime a ricordare, ad attendere, a sperare, sulla rovina di tutto il resto, a reggere senza piegarsi sulla loro gocciolina quasi impalpabile l'immenso edificio del ricordo. Grazie di avermi ascoltato e se qualche playlist vi interessa continuate a stare con me.